ciao a tutti oggi prepareremo la torta alla menta il tempo di preparazione della ricetta e di 60 minuti circa ingredienti sono farina di tipo doppio zero fecola di patate sciroppo di menta uova olio di semi di girasole o di semi di arachidi yogurt alla vaniglia zucchero semolato vanillina lievito per dolci e sale diamo il via alla ricetta siamo alla ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 10 finiamo lo zucchero sul fondo del boccale posizioniamo la farfalla aggiungiamo le uova chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 5 minuti a velocità 3 adesso aggiungiamo lo yogurt lo sciroppo di menta e l'olio chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 4 a questo punto rimuoviamo la farfalla dal boccale riposizioniamo il boccale e aggiungiamo la farina la fecola il lievito per dolci la vanillina e il pizzico di sale chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5 trasferiamo il composto in uno stampo del diametro da 24 26 centimetri che abbiamo precedentemente imburrato facciamo cuocere in forno preriscaldato statico a 160 gradi per 40 45 minuti circa verifichiamo la cottura facendo la prova con uno stecchino la torta alla menta è cotta lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo torta alla menta grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti